Dunque, abbiamo un altro argomento adesso sempre legato ai convertitori DC-DC che è rappresentato dai convertitori DC-DC cosiddetti inductorless, cioè senza induttore. Anzitutto perché può aver senso guardare convertitori inductorless? Tenete presente, stiamo parlando di convertitori di potenza, ad alta efficienza, quindi che funzionano in modalità switching, modalità commutata, quindi non lineari, però senza induttore. Stavo dicendo senza induttore. Qual è il vantaggio e qual è il motivo per cui si potrebbe volere un convertitore senza induttore? Il motivo principale è voler fare tutto integrato, ma chiaramente voi sapete che l'induttore integrato è difficile da fare e soprattutto, mentre può aver senso impiegarlo per frequenze molto elevate, perché magari anche un induttore di un nanoherry, per dire, può essere adatto, per questo tipo di applicazioni servono induttori comunque elevati, con valori diciamo più vicini a qualche centinaio di nanoherry almeno, per cui in realtà la realizzazione integrata è proibitiva. In quali casi è necessario e in quali casi è utile avere un convertitore totalmente integrato? Partiamo dai casi in cui è necessario, perché sono quelli che hanno, come dire, fatto partire come settore di ricerca quello dei convertitori di CDC e che poi l'hanno portato ormai a un utilizzo più ampio. Per esempio, nel momento in cui vogliamo gestire la potenza in un microprocessore, possiamo adoperare tecniche avanzate che consistono nell'alimentare separatamente blocchi differenti e alimentare le attenzioni diverse o spegnere i blocchi del circuito che non devono funzionare in quel momento, in modo da essere sicuri di abbattere sia la potenza statica sia quella dinamica. Sono cose che già si fanno nei microprocessori. Voi sapete che ormai in tutti i microprocessori la gestione della tensione di alimentazione e della frequenza di funzionamento viene fatta in modo dinamico. Quando bisogno di consumare meno, perché il processore deve lavorare di meno, si abbassa la frequenza di lavoro e abbassando la frequenza di lavoro si abbassa contemporaneamente anche la tensione di alimentazione. Tanto se devo lavorare a tensione più bassa, posso sopportare tempi di propagazione più elevati e quindi posso abbassare la tensione di alimentazione. Questa è una cosa che consente di ottenere notevoli risparmi nel funzionamento di un microprocessore, perché voi sapete che la potenza dissipata è proporzionale a V quadro e a F. Se io contemporaneamente abbasso V e abbasso F, la potenza dissipata dalla porzione del microprocessore si riduce fortemente. Allora, questa è una cosa che già si fa e si fa da diversi anni ormai. Con i multicore, chiaramente il primo passaggio è cercare di gestire separatamente la potenza e la frequenza di funzionamento dei core diversi e eventualmente anche di alcuni blocchi funzionali ampi tipicamente all'interno dei singoli core. Chiaramente per far questo bisogna avere dei rail di alimentazione separati per ciascun blocco funzionale di dimensioni relativamente elevate. E in modo più interessante dal punto di vista dell'efficienza energetica è avere un regolatore, quindi un convertitore di cdc separato per ciascun blocco funzionale. Quindi avendo questi convertitori distribuiti nello stesso circuito integrato. Chiaramente per fare una cosa del genere è obbligatorio aver tutto integrato. Non posso permettermi di avere induttanze esterne. D'accordo? Questo è un primo motivo. Ci sono motivi anche di ordine differente che valgono invece fuori da chip. Se voi prendete uno smartphone, un notebook, un tablet, un dispositivo mobile che funziona a batteria, di solito anche la gestione dell'energia è un aspetto particolarmente importante per prolungare il più possibile la vita delle batterie. Anche questo obiettivo si consegue gestendo separatamente la potenza fornita ai diversi blocchi che stanno sulla stessa scheda. In modo da alimentarli quando servono, staccare l'alimentazione quando non servono oppure modulare la potenza fornita. Questo vale per una cosa tipo uno smartphone, per il display, per il riscetrasmettitore, per i vari riscetrasmettitori che sono a bordo e così via. Di nuovo, anche questo si fa tipicamente. Su questo telefono per esempio ci sono un paio di circuiti integrati per la gestione della potenza che si occupano di caricare la batteria e di fornire le tensioni di alimentazione a tutti i sottoblocchi. Ecco, anche quelli non sono tutti realizzati con convertitori ad alta efficienza, perché ci sarebbe bisogno di tanti induttori separati. Tipicamente ci sono alcuni convertitori DC commutati e poi alcuni regolatori lineari. Anche quello, se si potesse riuscire ad avere i convertitori tutti integrati, diciamo, anche in quel caso, potendo avere i convertitori di DC commutati tutti integrati, potrebbero consentire un miglioramento dell'efficienza energetica e della fornitura di potenza ai vari sottoblocchi. E' migliore di quella che si ottiene utilizzando dei regolatori lineari per un certo numero di essi. Questo è il motivo principale che ha spinto alla ricerca, alla progettazione di convertitori DC-DC senza induttanze. Come vedrete, vi illustrerò un pochino, vedremo soltanto il principio di funzionamento di questi convertitori, non i dettagli. E' interessante il principio di funzionamento perché adesso si cominciano a vedere diversi prodotti a catalogo di questo tipo. Quello che vorrei cercare di trasmettervi è che effettivamente la complicazione del convertitore aumenta perché è più difficile sia la conversione sia la regolazione. Però chiaramente si ottiene un vantaggio in termini di compattezza che per molte applicazioni è interessante. Allora, vediamo il principio di funzionamento. E partiamo da un esempio. Diamo un esempio semplice da capire che ci dovrebbe consentire di come dire, prendere confidenza con gli aspetti principali. Allora, facciamo una conversione verso il basso. Immaginiamo che questa sia la tensione VIN che vogliamo convertire, l'ingresso. E di avere un convertitore, questo si chiama un convertitore ladder. Ladder, come una scala a pioli. Dunque, facciamo una conversione da 3 a 1. Quindi riduciamo di 3 volte la tensione. Abbiamo bisogno di 6 switch. E questa è l'uscita. Mettiamo una tensione, immaginiamo di mettere un generatore di tensione in uscita. Tanto per... Eh, questo potrebbe essere una capacità in parallelo al carico che mantenga la tensione costante. Che chiamiamo un VOUT la tensione. Ok? Vedete, in pratica la situazione è questa. Abbiamo, ovviamente non potendo avere induttanza, abbiamo interruttori controllati e condensatori. Nella pratica, quando si vanno a realizzare in modo integrato, questi circuiti presentano un'area che per lo più è rappresentata dalle capacità. Chiaramente. Sono molto più grandi delle altre. Allora, com'è che funziona? Questo, dicevo, è un ladder da 3 a 1. Dunque, immaginate questa situazione. Sono due fasi. Durante una fase gli interruttori dispari sono chiusi. Durante l'altra fase gli interruttori pari sono chiusi. E gli altri sono aperti. Quindi, diciamo, durante la fase 1 gli interruttori dispari sono chiusi. Ora io faccio lo stesso disegno, se mi riesce, evidenziando soltanto gli interruttori chiusi. Quindi sostituisco l'interruttore chiuso con un cortocircuito e non rappresento l'interruttore aperto. Questa è la situazione. Durante la fase 2, invece, avviene l'opposto. Quindi sono chiusi. interruttori pari e sono aperti gli altri. Allora, ragioniamo un attimo sulle tensioni applicate. Immaginate che si passa da una fase all'altra a velocità alta, commutando rapidamente. Tanto per farsi un'idea e capire come avviene la conversione, immaginate che sia talmente rapida la commutazione che le tensioni sulle capacità non cambiano. Ok? Non riescono a... Non si modifichi. Insomma, le capacità mantengono più o meno la tensione costante. Allora, si vede abbastanza bene che facendo questa ipotesi, in pratica, che cosa abbiamo? Abbiamo che su C3 c'è la tensione Vout. Va bene? La tensione Vout, siccome C3 va in parallelo a C2, è anche su C2. Va bene? Su C2, siccome C2 finisce in parallelo a C1, questo è C1, Vout c'è anche su C1, e quindi vedete qui che vi trovate C1, C3 e Vout in serie, vuol dire che su questo nodo c'è 3Vout. Quindi abbiamo che Vout è uguale a un terzo Vin. In questo senso è un ladder da 3 a 1. La tensione d'uscita è un terzo di quella di ingresso. Va bene? Quindi vedete in pratica com'è che funziona il ladder. In pratica abbiamo due file di capacità, a destra e a sinistra, e le capacità vengono agganciate così, commutando, no? In modo che tutte le capacità vengano allineate allo stesso valore di tensione. Questo si riesce a generalizzare abbastanza bene. Una volta che un ladder è di questo tipo, ora, con un po' di fantasia, potete ottenere qualsiasi rapporto. Quindi sia rapporti in discesa, sia rapporti in salita, giocando un po' con questo schema. Ci sono tante configurazioni classiche di convertitori di C-DC. Allora, chiaramente, se considero l'ideale interruttore, l'interruttore non dissipa potenza, la capacità non dissipa potenza attiva, quindi la tensione che eroga il generatore di ingresso finisce tutta nel generatore d'uscita. Quindi la potenza viene trasferita senza perdite, almeno idealmente, dall'ingresso all'uscita. Questo chiaramente poi nella pratica non avviene, dovremmo esaminare esattamente questo aspetto. Però, cosa vuol dire questo? Che ovviamente il mio aspetto è che la corrente d'uscita sia tre volte la corrente d'ingresso. Allora, per valutare questo aspetto, facciamo il conto della carica che passa dall'ingresso all'uscita. In particolare, vediamo la carica che passa per ogni ciclo di clock. Allora, questa è abbastanza facile da vedere, perché io, per esempio, diciamo che durante la fase 1 il generatore d'ingresso eroghi complessivamente una carica Q, va bene? Quindi l'integrale della corrente durante la prima fase, Q, in uscita dal generatore. Questa carica Q va qua su C1. Chiaramente al regime la tensione su C1 non cambia, quindi la corrente in C1 deve essere alternata. Se passa una carica Q in questa direzione, vuol dire che durante la fase 2 se ne va una carica Q nell'altra direzione e chiaramente finisce su C2. Anche su C2 la carica rimane costante, perché passa solo corrente alternata nelle capacità, quindi vuol dire che se durante la fase 2 passa carica Q in questa direzione, passa carica Q durante la fase 1 nell'altra direzione in C2. Ok? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in C3, vedete, durante la fase 1 passa carica 2Q. Questo vuol dire che durante la fase 2 in C3 passa 2Q nell'altra direzione. questo vuol dire che durante la fase 2 in uscita io mi trovo una carica che entra nel generatore che è Q vedete questa cosa qui? Qui c'è Q e Q che va via. Qui c'è 2Q e 2Q che scende in questa direzione. Qui invece ho 2Q che viene di qua, Q che va di là e quindi Q che viene in questa direzione. Infatti si richiude così. quindi 3Q passa la carica complessiva che viene erogata durante un periodo in uscita è 3Q cioè 3 volte la carica che eroga complessivamente il generatore di ingresso. ok? Quindi diciamo la corrente media erogata in uscita in questo caso è 3 volte la corrente di ingresso la tensione a capi dell'uscita è un terzo la tensione di ingresso. Se tutto funziona idealmente la potenza viene trasferita come se fosse un trasformatore d'accordo? come se fosse un trasformatore senza perdite. Invece del rapporto spire qui abbiamo una cosa che dipende dal numero di pioli della scala. ok? Questo è il meccanismo di funzionamento detto in modo molto molto semplice. Ora cerchiamo di descriverlo in un modo un pochino più rigoroso e poi andiamo a vedere dove stanno le perdite perché come al solito le perdite ci sono e dobbiamo come dire cercare di quantificarle. Allora ci sono due limiti che di funzionamento che vengono adoperati per studiare questo tipo di circuiti. Sono due limiti che corrispondono a due situazioni molto diverse. Un limite si chiama tipicamente SSL che sta per Slow Switching Limit Dunque Slow Switching Limit è un limite che vale per bassa FS FS è la frequenza di switching che cosa vuol dire bassa vuol dire talmente bassa che durante ciascuna fase le capacità raggiungono la tensione asintotica che viene imposta dai generatori esterni quindi si caricano totalmente va bene quindi le capacità raggiungono il loro stato finale di carica durante ogni fase in questo limite si può trascurare la potenza dissipata nella resistenza degli interruttori che in pratica durante perché questo perché la corrente passa nella resistenza degli interruttori soltanto un intervallo di tempo molto breve poi abbiamo la carica completa e la resistenza degli interruttori può essere trascurata poi su questo punto torniamo tra un attimo per il momento fatemelo scrivere così poi penso di darvi una giustificazione più adeguata quindi possiamo trascurare la potenza dissipata nelle resistenze dei switch l'altra situazione limite è quello che si chiama FSL dove F sta per FAST questo è FAST SWITCHING LIMIT che vale per alta frequenza di commutazione di nuovo che cosa vuol dire tanto alta è così alta che le capacità praticamente non cambiano stato di carica durante chiaro il discorso a questo punto che cosa vuol dire una volta che trascuriamo la la potenza dissipata nel caricare e scaricare la capacità l'unica potenza dissipata che rimane è quella attraverso le resistenze degli interruttori sono due limiti diversi che ci consentono di concentrarci prima su un aspetto della potenza dissipata poi sull'altro nella pratica è chiaro che ci sono tutti e due d'accordo però diciamo è una distinzione di comodo particolarmente efficace allora prima di affrontarli separatamente voglio sottolineare una cosa immaginiamo un aspetto che dovreste conoscere però conviene un attimo riguardarlo insieme perché a volte va perso dunque guardiamo un attimo la carica di una capacità e ricapitoliamo le cose principali voi sapete se io prendo interruttore a un certo istante chiudo interruttore immaginiamo di partire dalla capacità spenta la capacità completamente scarica io ho una tensione sulla capacità che si carica diciamo esponenzialmente se schematizzo l'interruttore come una resistenza si carica esponenzialmente con una costante di tempo pari a r per c d'accordo quindi io che cosa avrò avrò una corrente che varierà esponenzialmente sarà v0 su r all'inizio quando la capacità è scarica e poi questa corrente decade esponenzialmente con costante di tempo rc fino a completa carica della capacità d'accordo ora se andiamo a vedere l'energia accumulata dalla capacità al termine della carica questa come sapete è un mezzo cv0 al quadrato va bene se guardo la tensione erogata dal generatore io cosa devo fare devo fare v0 per i dt integrato per il tempo che va da 0 a infinito chiaramente questo qua lo posso portare fuori posso portare fuori v0 mi rimane da integrare soltanto i quando lo integro mi viene v0 quadro diviso r per rc quindi mi viene un c per v0 al quadrato la potenza erogata dal generatore è doppia rispetto a quella assorbita scusate l'energia erogata dal generatore è doppia rispetto a quella assorbita dalla capacità l'altra energia quindi un'energia pari a quella assorbita dalla capacità accumulata dalla capacità per meglio dire viene dissipata nell'interruttore questo è un concetto noto sapete quello che vi prego di tenere presente è che quella energia è indipendente da r che per qualche motivo c'è una semplificazione ovviamente se andiamo a fare il conto analitico ma l'energia che viene dissipata nella resistenza dell'interruttore è indipendente dal valore della resistenza dell'interruttore in altre parole è indipendente dalla bontà dalla qualità dell'interruttore da quanto l'interruttore sia ideale perché questo avviene perché se io vado a vedere esplicitamente la potenza dissipata nell'interruttore io che cosa devo fare devo fare r per i al quadrato di t integrato tra 0 e infinito va bene quando vado a fare questa integrale vedete mi viene fuori un v0 al quadrato fratto r per l'integrale da 0 infinito di e alla meno t su rc per 2 e l'integrale di questo fa rc per 2 quindi vedete che cosa succede che r va via viene un mezzo cv quadro perché è andato via r perché di fatto quando r è piccola è basso il termine r a moltiplicare ma è molto grande la corrente quindi quando vado a fare il prodotto le due cose si semplificano e sparisce la dipendenza da r che vuol dire che r influisce soltanto sulla costante di tempo ma non sull'energia dissipata d'accordo in questo senso vale il discorso fatto prima se noi consideriamo che le capacità si carichino completamente non ci serve valutare esplicitamente la potenza dissipata nella resistenza degli interruttori perché anche se gli interruttori avessero resistenza nulla quando conducono comunque avremo una potenza dissipata non nulla d'accordo in quel senso invece quando la commutazione è molto rapida e quindi le capacità non si caricano a quel punto dobbiamo valutare qual è la corrente che passa negli interruttori la corrente media perché a quel punto è la corrente media che sarà e che determinerà la potenza dissipata dell'interruttore avremo una corrente media quadrato per la resistenza del switch e quella ci dà la potenza dissipata d'accordo ok allora cerchiamo di studiare separatamente i due limiti e di vedere dove ci portano allora partiamo dal limite lento slow switching limit allora per analizzare un circuito e per valutare la potenza dissipata si considerano i vettori moltiplicatori di carica ok in inglese sono charge multiplier vectors vettori dei moltiplicatori di carica che cosa sono sono dei vettori che contengono un numero di elementi pari alle capacità che sono presenti nel circuito e pari al e che includono sia le capacità presenti nel circuito sia l'ingresso sia l'uscita quindi se ho n capacità sono vettori lunghi di n più 2 e ho un vettore per fase per esempio per la fase 1 il vettore è fatto in questo modo ha un termine che ha out poi ha un termine per ciascuna capacità diciamo a c n e poi ha un termine per l'uscita ah no il termine l'uscita l'ho fatto per primo quindi rimane il termine per l'ingresso durante la fase 1 e poi ha una cosa analoga per la fase 2 ogni elemento che cos'è è la frazione della carica che viene fornita in uscita in uscita per ciascun periodo per ciascun periodo quindi che cosa devo fare qua devo guardare la frazione di carica che passa in quella capacità rispetto alla carica fornita in uscita lungo tutto il periodo in pratica l'ho già calcolati prima perché per il ladder 3 a 1 il circuito che abbiamo fatto prima durante la fase 1 il vettore come è fatto in pratica l'ho già calcolato prima torno indietro dunque in Vout passa Q che è un terzo di Qout quindi il vettore moltiplicatore di carica corrispondente è un terzo perché passa in Vout un terzo della carica che viene fornita in uscita su tutto il periodo poi C1 C2 C3 sulle uniche capacità mi danno se le prendo con questo segno Q meno Q e 2Q quindi un terzo meno un terzo e due terzi d'accordo e poi Vin fa uscire un terzo torno un attimo indietro quindi ripeto Aout è la carica che passa un terzo della carica totale in C1 passa nella fase 1 un terzo della carica totale fornita in uscita in C2 passa meno un terzo in C3 passa due terzi e in uscita passa un terzo questo è il moltiplicatore carica per il circuito che abbiamo fatto durante la fase 1 durante la fase 2 beh la cosa è analoga questo in realtà lo posso disegnare senza guardare lo schema di prima perché? perché chiaramente nelle capacità la carica che passa in due fasi deve essere in una fase l'opposto che nella fase precedente sono soltanto due fasi quindi qui avrò meno un terzo qui avrò un terzo e qui avrò meno due terzi è perché ovviamente la carica media deve essere nulla a termine del periodo in uscita se prima è passato un terzo poi passano i due terzi successivi nell'altra fase e qui chiaramente avrò 0 questo si vede anche dal circuito che qui viene 0 perché è qui aperto e quindi qui passa 0 quindi i vettori moltiplicatori di carica per una fase la fase 1 e la fase 2 li ho scritti chiaramente quando due fasi è abbastanza automatico scrivere i vettori moltiplicatori di carica le cose si possono complicare quando più fasi come può succedere allora bene dunque che cosa voglio fare adesso io voglio trovare un'espressione che mi dica qual è la potenza dissipata negli interruttori nel limite slow switching qui devo utilizzare un teorema della teoria delle reti che si chiama teorema di Tellegen non so se l'avete mai visto esplicitamente il teorema di Tellegen dice una cosa molto semplice è in pratica un'espressione del principio di conservazione dell'energia dice in pratica che a un certo istante se considero tutti i rami del circuito il prodotto v per i cioè la somma di tutti i prodotti v per i è nullo in pratica mi dice questo che la somma di tutti i prodotti v per i su tutti i rami del circuito è nullo chiaramente questo vuol dire che ci sono rami che assorbono potenza ci sono rami che erogano potenza la somma algebrica deve essere nulla chiaramente con questo segno la somma algebrica viene positiva per i rami che assorbono negativa per i rami che erogano allora io questa cosa a questo punto la posso scrivere per le due fasi separatamente posso scrivere quindi che vout per iout quindi considerando il ramo che corrisponde al generatore d'uscita più io ho soltanto il generatore d'ingresso d'uscita e le capacità quindi qui c'è il prodotto su tutte le capacità delle tensioni ai capi delle capacità per le correnti ai capi delle capacità più lo stesso prodotto al generatore d'ingresso deve fare 0 quindi finora niente di nuovo e adesso spezzo sulle due fasi sulla fase 1 e la fase 2 perché praticamente il circuito cambia configurazione nelle due fasi quindi mi conviene applicare la stessa espressione alla fase 1 e alla fase 2 posso trascurare completamente come ho detto che faccio nel limite lento la potenza dissipata negli interruttori gli interruttori sono ideali quando sono aperti e quando sono chiusi tutti e due i casi non dissipano potenza e posso eliminare quei temi concentrarmi solo sulle capacità e sulle e sui generatori allora la scrivo separatamente per la fase 1 e per la fase 2 per comodità e sfruttando quello che conosco siccome ho scritto siccome abbiamo definito i moltiplicatori di carica chiaramente i moltiplicatori di carica in ciascuna fase sono proporzionali alle correnti perché i moltiplicatori di carica sono per definizione proporzionali alla carica che passa attraverso il ramo e quindi sono proporzionali alla corrente e allora quindi durante la fase 1 metto i moltiplicatori di carica della fase 1 quindi qui metto Vout Aout 1 più su tutte le capacità V C I 1 per A C I 1 moltiplicatori di carica della capacità C più V in per A in 1 uguale a 0 e qui per la fase 2 scrivo la stessa cosa in a a Grazie a tutti. Allora, adesso cosa faccio? Sommiamo la prima più la seconda e mi ricordo che per definizione aout1 più aout2 fa 1. Sono normalizzate in quel modo. Quindi, se sommo, che cosa ottengo? Vout uguale, ecco qui facciamo due note. Prima nota aout1. Leggete bene cosa c'è scritto alla lavagna. Un po' troppo... Scrivo un po' più grande, devo aspettare un attimo. Allora, due note. Prima nota aout1 più aout2 deve essere uguale a 1. Questa è la normalizzazione che abbiamo fatto. La seconda nota è che vi dicevo che se ho due fasi, per le capacità moltiplicatori di carica di una fase, sono uguali opposti al moltiplicatore di fase dell'altra carica. Quindi, aci1 sarà uguale a meno aci2. Quindi io questi li posso chiamare aci e basta. Non indico 1 e 2, diciamo, levo l'indice che così mi si semplifica meglio. Allora, se sommo la prima espressione alla seconda, che cosa mi viene? Mi viene... Mi viene vout a destra, uguale, qui, anzi più, sommatoria su tutte le capacità. E qui mi viene aci, in evidenza, che moltiplica vci1 meno vci2. Il meno è perché aci1 è uguale a meno aci2. D'accordo? Quindi questo mi va via così, più mi rimane l'ultimo pezzo, che è v in, che moltiplica a in 1 più a in 2. Tutto uguale a 0. Va bene. Allora, devo ragionare un po' su questa espressione e vedere se riesco a ottenere qualcosa di più che sia abbastanza generalizzabile. E quello che posso ottenere è la cosa seguente. Allora, se immaginiamo di essere praticamente a vuoto, quindi in una situazione in cui non viene erogata corrente. Va bene? Se non viene erogata corrente, le normalizzazioni rispetto alla corrente in uscita valgono, quindi il circuito, le espressioni che abbiamo scritto valgono lo stesso. Quello che però succede è che chiaramente le capacità non si caricano e non si scaricano, quindi rimangono di valore costante su tutte e due le fasi. Perché il circuito raggiunge una situazione stazionaria, se non esce corrente, nessuna capacità si carica o si scarica. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a vuoto, quei termini vci1 e vci2 sono uguali e quindi la sommatoria centrale è nulla. Questo che cosa mi dice? Mi dice che l'ultimo termine, questo qua, in pratica è uguale al valore della tensione d'uscita a vuoto. Questa è la vout 0. D'accordo? Ripeto ancora una volta. Se non erogo corrente o che la qout tende a 0, quindi anche la q, che è un terzo di qout, tende a 0, vuol dire che durante ogni fase le capacità non si caricano e non si scaricano, cioè rimangono cariche allo stesso valore. Quindi vc1 e vc2 sono uguali, quindi la sommatoria centrale si azzera. Questo vuol dire che nel caso di funzionamento a vuoto, la vout è uguale a, anzi questo non è più, è meno vout, no? La vout è uguale a meno questa roba qua. Quindi questo è meno vout a vuoto. Perché mi serve questa cosa? Perché a questo punto io so che la caduta di tensione d'uscita, il delta vout, è uguale a questa roba qua. Vedete, vout meno vout a vuoto, quindi la caduta di tensione a causa della corrente d'uscita, è uguale a meno questa sommatoria. E' il risultato che mi serve. Quindi scrivo qua delta vout, che è uguale a vout meno la vout a vuoto, è uguale a meno sommatoria su tutte le capacità, della vci su fase 1 meno vci su fase 2, che moltiplica a ci. Va bene? Bene, allora, questo lo sappiamo quant'è in realtà. Perché questo che cosa mi dice? Questa che cos'è? Per ogni capacità è la differenza tra la tensione che c'è tra una fase e la tensione che c'è alla fase successiva. Ma noi conosciamo per ogni capacità quant'è la carica che va via, quindi quella differenza di tensione sarà proporzionale alla carica che va via. La carica che va via tra una fase e l'altra è per definizione ACI per Qout. Questa è la carica che si sposta da una capacità all'altra. Diviso il valore della capacità C è la differenza di tensione. Io questo lo conosco e quindi ho che delta vout, ma sto per chiudere, è uguale a sommatoria su tutte le capacità di ACI al quadrato per Qout diviso CI. Allora, ecco, se notate a che cosa sto arrivando? In pratica sto arrivando a ricavare una resistenza d'uscita. Vedete, perché questa cosa sta assomigliando, sono partito dicendo che valutiamo la caduta di tensione che si ha quando esce corrente, ovviamente mi viene che questa caduta di tensione è proporzionale alla corrente che esce in ciascun periodo. Ovviamente la carica che esce in ciascun periodo è proporzionale alla corrente di uscita, per cui questa Qout sarà Iout diviso Fs, quindi è la corrente media d'uscita per il periodo, e nel momento in cui lo vado a sostituire ho ricavato una resistenza d'uscita. Questa la posso scrivere in questo modo, meno I sommatoria su tutte le capacità di ACI al quadrato, diviso CI per Fs, e a questo punto Iout lo porto fuori. Vedete, questa roba qua sarà la resistenza d'uscita. per definizione di resistenza d'uscita. Quindi questa si chiama Rout nel limite SSL, vedete, è una quantità che è inversamente proporzionale alla frequenza di switching, e poi è data dalla sommatoria del moltiplicatore di carica al quadrato di ogni capacità diviso al valore della capacità stessa. D'accordo? Quindi in pratica che cosa succede? La, il generatore di, il convertitore di CDC nel limite SSL, io lo posso descrivere come un equivalente Tevenin, dove ho una tensione a vuoto che è un terzo della tensione d'ingresso, e nel caso particolare, quindi sarà in generale ACI Out, Out, no, no, in questo caso va calcolato, nel caso del nostro esempio è un terzo della tensione d'ingresso, un certo valore a vuoto, dipende un po' dal rapporto dell'adder, più in serie ha una resistenza d'uscita che è la Rout SSL, e questo, questa è la Iout, quindi questa è la tensione che misuro in uscita. D'accordo? Quella resistenza d'uscita mi tiene conto delle perdite, che la perdita interna sarà uguale alla Rout per la Iout a quadrato, la potenza dissipata internamente. Quella è una potenza che io vedo dal punto di vista circuitale dissipata in quella resistenza, se vado a vedere dal punto di vista, come dire, microscopico, è una potenza dissipata nella carica e scarica di tutte le capacità. Come vedete, è quella porzione di potenza che esiste anche se considero gli interruttori tutti ideali, cioè che ho anche in assenza di elementi che causano dissipazione, semplicemente perché se metto in parallelo due capacità che hanno tensione diversa, anche se considero ideale la resistenza della maglia che unisce le due capacità, io ho dissipazione di potenza. D'accordo? Perché è al limite, se faccio un limite per la resistenza di maglia che tende a zero, la corrente mi va infinito e quando vado a fare l'integrale, come nell'esempio che vi ho fatto prima, c'è un'energia dissipata che è non nulla. E di questo ti tieni conto con questa espressione. D'accordo? Prego. E la tensione... Esatto, la tensione che ho in uscita a vuoto. Nell'esempio che abbiamo fatto prima è in terzi. Ora, questa espressione vale in generale, bisogna calcolare sulla base del numero di pioli che ho nella scala quant'è la tensione di uscita. Prego. Se la potenza dissipata internamente, dov'è che va a finire con il... Ehm, va... Dunque, è il motivo per cui vi ho fatto avere questo, perché spesso non viene apprezzato questo punto. Il modo più semplice di vederlo è questo. Quando io vado... Vedete, in quel caso lì, io se suppongo ideale la resistenza, comunque mi trovo una certa potenza dissipata in quella resistenza. E il modo più semplice di capirlo è fare il limite per... mettendo una R generica e fare il limite per R che tende a zero. Se guarda l'ultima espressione, vedete, io ho scritto R per il quadro di T. Quindi, se faccio il limite per R che tende a zero, I mi va all'infinito, perché I è uguale a V0 su R per l'esponenziale. Quindi ho una corrente infinita e l'integrale mi viene finito e mi viene... l'integrale di R quadro, che è l'energia quindi dissipata in quella resistenza, mi viene pari a un mezzo su V quadro. Quindi viene dissipata esattamente nella maglia, può essere nell'interruttore o nella maglia, a questo punto non è importante, ma anche quando la resistenza tende a zero, la corrente di carica tende a infinito e comunque quella parte di potenza la butto via. D'accordo? Non, non... cioè può essere nell'interruttore... ripeto... l'energia va via a qualche modo. Viene dissipata. In calore? Certo in calore. No. Nel circuito, ripeto, le metta una impedenza di maglia R, va via in R, d'accordo? Poi la R la fa tendere a zero, va via lo stesso lì. Va via in quella resistenza... può essere l'impedenza... può rappresentarla come... può dire che R è l'impedenza dell'interruttore o può dire che R è l'impedenza del collegamento, quindi del filo che conduce, anche se quella R la porta a zero, va via. Quindi non è... e va via in calore. Va via semplicemente perché quando R tende a zero, la corrente tende a infinito, quindi c'è una... diciamo più è bre... più è piccola la resistenza, più è alta la potenza istantanea che viene dissipata, più breve il tempo durante il quale viene dissipata, ma l'integrale fa una costante che non si rimuove. Ok? Quindi l'unico modo di rimuovere quella potenza, cioè di evitare che la potenza venga dissipata, è caricare il meno possibile la capacità. Se la capacità la porta da carica a zero a V, quella potenza viene dissipata. Ok? Quindi, diciamo, giusto per tornare un po' alla sua domanda, perché l'ho vista un attimo perplesso prima, supponiamo che è una questione di proporzione, perché una resistenza assolutamente nulla non esiste. se lei la fa tendere a zero quella resistenza, comunque viene dissipata. Se dice, per me, la resistenza dell'interruttore è uguale alla resistenza del resto del circuito, non del resto del filo che rappresenta la maglia, e le faccio tendere tutte e due a zero, a quel punto l'energia viene dissipata metà nell'interruttore e metà nel resto del circuito. insomma, quella viene dissipata. in altre parole, il fatto che un'imperenza abbia valore nullo non garantisce che non venga dissipata l'energia in quell'imperenza, perché se in quell'imperenza di valore nullo faccio passare una corrente infinita, lì dissipo l'energia. Vabbè, vediamo l'altro limite invece. L'altro limite è il fast. Allora, là che cosa devo considerare? Beh, lì devo considerare esplicitamente le resistenze degli interruttori. Quindi, supponiamo che RI sia la resistenza dell'interruttore SI. Allora, devo definire ancora una volta i moltiplicatori di carica, i charge multipliers per gli interruttori stavolta e quindi li chiamerò AS per la fase 1 e per la fase 2. Come li definisco? Chiaramente ho un elemento per interruttore immaginiamo che facciamoli per il nostro esempio tanto per agganciarla a una cosa realistica quindi avrò tanti elementi nel vettore quanti sono gli interruttori e di nuovo il moltiplicatore di carica è la frazione della carica che passa durante quella fase attraverso l'interruttore rispetto alla carica che in tutto il periodo vi è fornita in uscita. D'accordo? Quindi andiamo a vedere il disegno questo disegno che abbiamo fatto per esempio l'interruttore 1 nella fase 1 l'interruttore 1 viene attraversato da carica Q durante la fase 1 quindi avrà moltiplicatore di carica un terzo e durante la fase 2 avrà moltiplicatore di carica zero perché non passa corrente va bene? L'interruttore 2 sarà attraversato da carica nulla durante la fase 1 quindi avrà moltiplicatore di carica zero qua e qui avrà moltiplicatore di carica un terzo perché vedete in questa direzione viene attraversato la carica Q durante la fase 2 quindi vediamo il 3 viene fatto praticamente come l'1 il 4 viene fatto come il 2 il 4 viene fatto come il 2 sì perché vedete qui ci passa zero qui ci passa 2Q in questa direzione e Q in questa direzione quindi il netto in questo senso è Q quindi come il 2 il 5 invece durante questa fase viene attraversata da meno 2Q vedete verso l'alto per cui avrà meno 2 terzi e avrà zero durante la fase 2 il 6 avrà zero durante la fase 1 e di nuovo meno 2 terzi durante la fase 2 perché passa 2Q verso l'alto quindi se la scriviamo tutto quello che abbiamo detto qui avrò ho detto un terzo è zero S2 è al contrario chiaramente interruttori spenti durante quella fase avranno moltiplicato le cariche a zero durante quella fase qui avrò un terzo e zero qui avrò zero e un terzo qui avrò meno 2 terzi e zero e qui avrò zero e meno 2 terzi diciamo che prendo il segno positivo quando scende verso il basso la carica ok se considero un certo switch SI la corrente che passa la corrente media che passa nel switch durante la fase 1 per esempio quanto dovrà essere sarà devo fare la carica che passa nel switch durante la semi-onda che è ASI1 per Qout questa è la carica per scusate la carica diviso il tempo e il tempo è questa è la carica totale e il tempo è devo dividere per il tempo quindi moltiplico per FS vediamo se torna questa è la carica media su tutto il periodo se faccio la carica durante soltanto durante il semi-periodo il valore medio è due volte questa quantità considerando che ho una semi-onda di fase 1 e una semi-onda di fase 2 d'accordo? quindi se metto un 2 questo è la corrente media average current in switch E during phase 1 in pratica ho preso la carica e ho diviso per T mezzi quindi viene per 2 FS perché faccio questo? perché a questo punto posso calcolare la potenza dissipata in tutti i switch nel limite fast e come la calcolo? la calcolo semplicemente prendendo la somma su tutti i switch e calcolando la potenza quindi qua mi viene R per I per I SI al quadrato no sì SI a quadrato e poi posso evitare l'indice 1 2 perché tanto 1 è 0 e l'altro no quindi più o meno viene viene uno dei due è sempre 0 quindi posso evitare di considerare questo pezzo guardo soltanto l'indice diverso da 0 quindi quando sommo su tutti i switch ottengo la potenza media va bene quindi sto supponendo che in ogni interruttore la corrente sia costante durante la fase per questo mi serve la corrente media per fase allora vado a far la somma vedete che cosa viene fuori su tutti i switch I mi viene 4 volte R per I questo termine Qout per Fs è Iout quindi posso semplificarlo qua mi viene Asi al quadrato per Iout e quindi questa roba qua la conosco è esattamente la resistenza d'uscita nel limite fast si si quindi la scrivo di lato Rout nel limite fast è uguale a 4 sommatoria su tutti i switch di Ri per Asi al quadrato questo posso anche scriverlo in questo modo ho scritto in modo un pochino più contratto se lo voglio scrivere per esteso lo scrivo su tutte le fasi quindi Asi 1 al quadrato più Asi 2 al quadrato però uno dei due è sempre nullo quindi mi rimane soltanto quello non nullo d'accordo per come è fatto uno dei due è sempre nullo d'accordo quindi questo è un risultato abbastanza atteso di fatto mi viene che chiaramente la resistenza di ciascun switch conta linearmente nella somma della potenza complessivamente dissipata e poi ciascun switch pesa per quanta corrente passa rispetto alla corrente d'uscita d'accordo quindi abbiamo tutti e due questi fattori la resistenza d'uscita nel caso slow switch in limit in pratica tiene conto dell'energia per la carica delle capacità indipendentemente dal valore della resistenza dei vari switch nel caso fast invece le capacità praticamente non si caricano quindi quella componente di energia è trascurabile e invece teniamo conto soltanto della resistenza finita dei singoli switch d'accordo in una situazione intermedia diciamo in cui la frequenza di switch è tale per cui non siamo né nel limite slow né nel limite fast c'è una espressione come dire empirica che funziona particolarmente bene si riesce a dimostrare che effettivamente dà un risultato accurato rispetto a una valutazione completa che tenga conto del fatto che la carica delle capacità non è completa durante una semionda e ci dice questo in una situazione intermedia R out è approssimativamente uguale alla la somma alla radice quadrata della somma dei quadrati delle due resistenze detta così sembra un po' come dire magica ma com'è che viene questa cosa non è per niente evidente facendo insomma conti un po' in dettaglio un po' lunga la cosa ma insomma si riesce a vedere che va molto vicina notate sono abbastanza diverse le due resistenze dipendono da fattori completamente diversi perché la resistenza nel limite slow è inversamente proporzionale alla frequenza di switching mentre la resistenza nel limite fast è completamente indipendente dalla frequenza di switching va bene quindi se io vado a disegnare la resistenza d'uscita in funzione della frequenza di switching con questo limite cosa ottengo facciamola su scala log log va bene log log perché così mi viene un po' più semplice mi trovo che la parte slow è inversamente proporzionale quindi su scala log log vedo una retta con pendenza meno uno la parte fast invece è totalmente indipendente quindi vedo una cosa completamente indipendente dalla frequenza questa è la fast va bene quindi che cosa succede quando vado a fare la somma delle radici quadrate chiaramente in scala log log vedo che quando sono a bassa frequenza la componente lenta è dominante e quindi la somma teorema in pitagora mi dà praticamente la componente lenta quando quando mi trovo in condizione uguale sono 3db sopra come al solito quando invece sono a frequenza molto elevata conta soprattutto la fast quindi questo qui è il limite fast questo qui è il limite slow e nel mezzo diciamo le due cose si raccordano quindi si riesce a vedere che più o meno un po' di discrepanza sia soltanto quando siamo a frequenze per le quali le due resistenze sono all'incirca uguali d'accordo quindi se vado abbastanza lento non mi devo preoccupare della resistenza dei switch perché tanto non conta non ha nessun effetto sul valore della resistenza d'uscita quando sono invece a frequenze elevate non mi devo preoccupare del valore della capacità né del valore esatto della frequenza perché praticamente sono a frequenze talmente elevate che le capacità non cambiano carica una volta che sono in quel limite lì il valore esatto della capacità della frequenza non conta più va bene considerando solo questi fattori si riesce a vedere che in condizioni pratiche si può riuscire ad avere delle efficienze di conversioni vicino all'80 90% quindi particolarmente interessanti rispetto non eccezionali rispetto ai convertitori con induttori ma chiaramente molto interessanti rispetto a convertitori lineari va bene dunque cosa dobbiamo fare adesso voglio in questo momento analizzare altri tipi di perdite che ci sono e sono presenti nel circuito oltre a questi che abbiamo considerato adesso e poi farvi vedere perché la regolazione ha un problema non particolarmente semplice quindi vediamo quali sono gli altri fattori di perdita prego quando siamo in SSL ci preoccupiamo delle capacità perché la resistenza tende a zero quando siamo no la resistenza non è importante la resistenza la potenza esatto in SSL a contrario ci può di avere resistenza perché non è la capacità la condizione che va a costare sì siamo in quella situazione d'accordo stavo dicendo vediamo gli altri fattori di perdita allora i fattori di perdita essenzialmente sono i fattori di perdita sono essenzialmente diciamo di tre tipi il primo il primo fattore di perdita è legato alle switching loss cioè la perdita per il switch per commutare gli interruttori chiaramente immaginate gli interruttori sono dei mosfet che vengono accesi e spenti per accendere e spegnere questi mosfet bisogna portare la tensione su gate del mosfet dal valore alto al valore basso quindi bisogna caricare la capacità d'ingresso del mosfet questo ha un costo il costo è ovviamente proporzionale alla frequenza di switching in termini di potenza ed è proporzionale alla 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 somma di tutte le capacità di gate dei degli interruttori quindi switching loss sarà di questa forma P switching sarà uguale a la frequenza di switching per l'energia che si consuma in ogni periodo quindi devo fare una somma stavolta su tutti i switch della capacità di gate per la tensione che viene applicata su gate a quadrato più la C la capacità di drain per la tensione applicata sul drain più la capacità di source per la tensione applicata sul source sto immaginando uno schema di questo tipo dove questo è l'interruttore questo è il gate no anzi questo è body non source l'ultimo è il body questa è la C B questa è la C D I C B I e C G I quando commuto l'interruttore carico e scarico tutte quelle capacità e faccio variare una tensione che è rappresentata la VG VD e VB chiaramente il valore dipende dalla configurazione ora sto facendo un discorso abbastanza generale però quello che mi preme ricordarvi è che sicuramente ho questa proporzionalità e senza altro queste capacità sono proporzionali complessivamente all'area totale che occupano tutti i switch quindi guardando a livello funzionale elevato questa potenza di switching sarà proporzionale sia a FS sia complessivamente all'area occupata dai switch perché è importante tenere presente questo aspetto perché ovviamente vi ricordate l'esempio che vi ho fatto vedere prima prima avevamo trovato che la potenza dissipata nella resistenza di uscita diminuiva all'aumentare della frequenza di commutazione perché la resistenza di uscita era proporzionale a uno su F questo è soltanto una parte del problema in realtà quando aumento ed è una considerazione che mi farebbe preferire una frequenza di commutazione più elevata però in questo caso io tengo presente che se aumento la frequenza di commutazione mi aumenta la potenza di cui ho bisogno per effettuare la commutazione diciamo come dire il trade off e la progettazione si vede abbastanza bene analogamente quando guardo la resistenza di uscita in modalità nel limite fast quella resistenza è tanto più piccola quanto più piccole sono le resistenze dei switch per fare le resistenze dei switch basse posso fare i switch larghi d'accordo però quando faccio i switch larghi mi aumenta l'area occupata del switch quindi mi aumenta la capacità di ciascun switch e mi aumenta la potenza dissipata per farli commutare chiaramente ed è una questa è la componente importante della potenza dissipata cioè un altro compromesso forte della progettazione è che quando cerco di abbassare molto le resistenze di uscita tipicamente lo faccio a scapito della potenza di cui ho bisogno per commutare i switch perché per abbassare le resistenze di uscita devo fare switch larghi e farli commutare rapidamente ma mi peggiora questo aspetto d'accordo o altri aspetti hanno dipendenze un pochino meno fastidiose e per esempio c'è un altro aspetto è la bottom plate parasitic capacitance la capacità parassita della faccia inferiore delle capacità perché vedete le capacità tipicamente vengono ottenute tra due livelli di metal la capacità c1 c2 c3 che ho rappresentato vengono tipicamente ottenute tra due livelli di metal e sono capacità che non hanno una piastra a tensione fissa d'accordo quindi sicuramente dovete tenere presente che c'è la piastra più vicina al substrato insomma la piastra inferiore che cambia il valore di tensione e che avrà un accoppiamento parassita capacitivo con il resto del circuito d'accordo quindi io qui avrò oltre alla capacità che voglio avrò una capacità della bottom plate indesiderata che sarà copiata con mondo esterno diciamo con una massa generica e che chiaramente si scarica e si scarica quando io vario la tensione sulla capacità principale d'accordo ripeto non è se vi ricordate il circuito che vi ho fatto vedere nessuna non c'è una tensione fissa sulle capacità e quindi di questo bisogna che tenga conto e chiaramente questa potenza la chiamiamo k pk a che cosa sarà uguale sarà uguale di nuovo alla frequenza di switching per devo fare la sommatoria su tutte le capacità di nuovo della capacità parassita della piastra inferiore per la tensione di cui varia la tensione di cui varia la quantità di cui varia la tensione sulla piastra inferiore quell'effetto lo devo tenere presente di nuovo non mi interessa l'espressione esatta mi interessa capire funzionalmente da che cosa dipende da che cosa dipende le proporzionalità quali sono si capisce abbastanza bene anche questa è proporzionale alla frequenza di switching quindi è una cosa che pago quanto più veloce vado e poi chiaramente mi aspetto e sarà proporzionale all'area occupata dalle capacità più grandi faccio tutte le capacità più grandi mi verranno anche le capacità parassite quindi questa sarà proporzionale all'area occupata dalla capacità questo è importante perché vi ricordate la resistenza d'uscita nel limite slow è tanto più bassa quando più grandi sono le capacità quindi mi conviene da quel punto di vista fare le capacità grandi però le capacità grandi le pago per questa componente perché mi incrementa questa componente quindi adesso facciamo un ragionamento più qualitativo poi è chiaro il ragionamento quantitativo si fa col circuito alla mano andando a fare il dimensionamento è importante al momento tenere presente quelli che sono i compromessi ultimo aspetto riguarda invece la resistenza persa la potenza persa nella resistenza equivalente serie delle capacità le capacità sono ottenute tipicamente per avere bassa resistenza vengono ottenute con livelli di metal la resistenza in quel caso è bassa non è ovviamente nulla quando facciamo il conto nel limite SSL consideriamo esplicitamente soltanto la resistenza dei switch in realtà ci sono anche le resistenze serie delle capacità hanno un conto e quelle resistenze li vanno direttamente in serie a quelle dei switch quindi la potenza dissipata nella resistenza serie equivalente viene uguale a una certa resistenza serie equivalente per la corrente d'uscita al quadrato quindi è un termine diciamo all'incirca costante che si somma alla a termine legato alla resistenza d'uscita del circuito quindi andando a sommare tutti i contributi che cosa ho? ho che in pratica c'è un termine dovuto alla resistenza di uscita più il termine dovuto al switching più il termine dovuto alla ESR alla resistenza serie equivalente più il termine dovuto alla alla capacità parassita della piastra inferiore tutti questi termini si sommano e l'efficienza del convertitore sarà quindi uguale a la potenza che viene erogata in uscita diviso la somma tra la potenza che viene erogata in uscita e la p loss ovviamente nella pratica questo numero quando si fa una conversione verso il basso si riesce a ottenere in questo intervallo 50-90% ma dentro il piloto c'è anche Rout Iout a quadrato si Rout Iout a quadrato esatto l'Rout è la Rout Iout a quadrato tiene conto di due contributi di potenza la potenza dissipata per la carica delle capacità e la potenza dissipata nei switch che non abbiamo tenuto conto negli altri termini perché tutto era chiuso là dentro a quadrato che non abbiamo Allora, volevo farvi vedere un po' di considerazioni graficamente, un po' di considerazioni che abbiamo già fatto sullo spazio di progetto. Se metto su una scala logaritmica le potenze sull'asse delle ascisse e le frequenze sull'asse delle ordinate, quindi le metto su scala logaritmica così le somme le vedo bene, vedete io che cosa ho? Ho alcune potenze che dipendono in modo inversamente proporzionale alla frequenza, questa è la frequenza di switch, ed è in questo caso la PSSL. La potenza, quindi questo è il termine R out SSL per i out al quadrato, questo è inversamente proporzionale, va come 1 su F. Poi ho alcuni termini che sono indipendenti dalla frequenza, che sono la potenza FSL e la potenza nella resistenza serie equivalente. Quindi ho alcuni termini che sono proporzionali alla frequenza, vanno proporzionalmente alla frequenza, che sono la potenza di switching e la potenza delle capacità parassite. D'accordo? Quindi ho questi tre termini e quando vado a fare la somma, chiaramente su scala logaritmica, che cosa succede? Deve evidenziare la componente dominante e mi viene una curva di questo tipo. Quindi questa è la potenza totale, questa è una P-loss totale, vedete che cosa mi trovo ad avere? Mi trovo ad avere che c'è una regione ottimale, che è questa centrale, se esiste, in cui la potenza è determinata dal fast switching limit e dalla resistenza serie equivalente. Diciamo che all'incirca dovrei cercare di trovarmi qua, in questa zona, a quella frequenza più o meno ottengo il minimo della potenza di perdita e quindi il massimo rendimento. Questo è un parametro, perché io in pratica quali parametri di progetto ho ad alto livello? Ho la frequenza, lo spazio totale che dedico alle capacità e lo spazio totale che dedico ai switch. D'accordo? Proviamo, se guardo rispetto agli altri parametri, quindi questo è usando FS come parametro. Ora, provo ad operare l'area totale dedicata ai switch. Se guardo l'area totale dedicata ai switch, che cosa succede? Questa è la potenza. Di nuovo scala log log. Allora, ho un contributo che dipende in modo inversamente proporzionale all'area dedicata ai switch, che è la parte FSL. La PFSL. Perché? Perché, vi ricordate, è proporzionale alla resistenza dei switch. Quindi, a parità di lunghezza, se faccio i switch più larghi, la resistenza cala. Quindi lì ho una proporzionalità 1 su ASW. Però, contemporaneamente, c'è un'altra parte che invece è direttamente proporzionale. Cioè, la potenza di switch è direttamente proporzionale all'area di switch. D'accordo? E poi ci sono un sacco di altre, tutte le altre, la PSSL, la PESR e la PKP, che sono indipendenti dall'area di switch. Quindi, anche in quel caso, guardando l'area dedicata a realizzare gli interruttori, ho uno nello spazio di progetto, vedo una regione ottima, che è quella in cui, che è quella più o meno che corrisponde all'incrocio di queste due rette. Va bene? Quindi, se posso, cerco di piazzarmi là. Vedete, c'è, come dire, un posto ideale, qualitativamente, ripeto, poi bisogna vedere se è un punto raggiungibile, effettivamente, ottenibile. C'è un posto ideale rispetto ai vari contributi di potenza per riuscire a massimizzare il rendimento. Perché ovviamente voglio massimizzare il rendimento? È ovvio. Guardate, il motivo principale è per ridurre, per poter ridurre l'ingombro, diciamo. L'altro termine, invece, è l'area dedicata alle capacità. Anche quello mi porta a un altro tipo di compromesso. Se guardo l'area dedicata alle capacità, io trovo un'altra situazione. Cosa trovo? Beh, trovo che la potenza nel limite SSL è inversamente proporzionale all'area. Quindi più aumento l'area, più si riduce quella potenza, perché più grandi, vi ricordate, è proporzionale, la PSSL è proporzionale a uno su C. Quindi più grandi le faccio, più piccola è la potenza dissipata. E va bene. Però, contemporaneamente, la potenza dissipata nelle capacità parassite è proporzionale all'area occupata della capacità e il resto ne è indipendente. Ora, queste pendenze sono uguali, non è detto che... E queste qua, la PFSL, la PESR e la P di switching, sono indipendenti dall'area delle capacità. Ripeto, questo poi è un ragionamento abbastanza al primo ordine. Quando si va a fare il progetto di dettaglio, le cose possono cambiare. Anche qui, il punto ideale in cui conviene trovarmi è all'incirca l'incrocio. Nel caso migliore, questo punto è il livello di potenza totale, se il fondo scende, altrimenti è dove mi porta il fondo. Va bene. Dunque, su questo argomento direi che ci fermiamo qui, voglio solo farvi vedere un paio di cose, due schemi, soltanto per farvi vedere come è possibile salire in tensione. Con lo stesso ladder si può ottenere in uscita una tensione più alta di quella di ingresso. Basta fare in modo di prendere l'uscita in un punto, diciamo, più, diciamo, su un piolo più alto di quello dell'ingresso. Vi faccio vedere un esempio. Vedete che il circuito è praticamente lo stesso di prima. Mi avevo anticipato, praticamente si possono ottenere tutte le frazioni. Dunque, S6, S7, S8, S9 e S10. E poi costruisco la scala a pioli nello stesso modo di prima. Vedete? Metto tre cose da questa parte e le capacità traslate sull'altra parte. L'uscita stavolta la prendo su e l'ingresso, per esempio, lo prendo qua e in questo modo ho un'uscita più alta dell'ingresso. In questo caso è da 2 a 5, ho 10 interruttori, piazzo l'ingresso al quarto. Chiaramente si vede abbastanza facilmente. Ragioniamo nel solito modo, come abbiamo fatto prima. Durante la fase 1 gli interruttori dispari sono chiusi e quelli pari sono aperti. e quindi, vedete, abbiamo una situazione di questo tipo. Abbiamo il primo, questo è C1, questo chiamano C2, C4, questo è C5, C6 e C7. Allora, questo viene C2, questo è chiuso e questo è fatto così, C3, C4, S7 chiuso, C5. Il meccanismo è esattamente quello che ho fatto prima, bisogna stare attenti soltanto a non confondersi. C6, C6 e l'uscita è appesa e l'ingresso è questo qua, VIN. Mentre invece durante la fase 2 abbiamo una situazione opposta, cioè abbiamo che gli interruttori pari sono chiusi e quelli dispari invece sono aperti. Quindi questo è aperto, C2 è collegato a VIN in questo modo, questo è C2. C1 è messo così, C4 è chiuso, C3 è così, C4, 1, 2, 3, 4, 5, C5, C6, l'8 è chiuso, C7 e l'uscita. Va bene? Allora, qui si vede abbastanza bene com'è che funziona, perché vedete, di nuovo facciamo questo conto, che facciamo il conto a vuoto, che è più facile, a vuoto le capacità non cambiano valore tra una fase e l'altra. Allora, vedete, C1 e C2 hanno la stessa tensione e quindi queste VIN in fase 1, vedete, se questa è una tensione, questa è l'altra, vuol dire che su C1 e su C2 c'è metà VIN. Qui c'è VIN mezzi e qui c'è VIN mezzi. Perché qui quando le metto in serie la somma fa VIN, quando le metto in parallelo hanno la stessa tensione, quindi vuol dire che VIN si ripartisce in parti uguali. A questo punto vuol dire che su ogni capacità c'è VIN mezzi, perché queste vanno alternativamente in parallelo l'una con le altre, quindi qui c'è VIN mezzi su tutte. Quindi su C4, siccome C3 va in parallelo a C4, anche su C4 c'è VIN mezzi. Su C5, quindi c'è VIN mezzi, con questo segno. Su C7 c'è VIN mezzi e anche su C6, quindi c'è VIN mezzi. E quindi in questo punto qui c'è VIN mezzi. Allora, guardate, in pratica, qui ho VIN più VIN mezzi, più VIN mezzi, più VIN mezzi, qui mi viene 5 mezzi VIN. Quindi vedete, insomma, scegliendo opportunamente il punto di ingresso e il punto di uscita, posso avere la tensione di uscita a calare, la tensione di uscita invece una conversione verso l'alto. E ci sono tantissime soluzioni diverse. Tra l'altro, strutture di questo tipo, sono quelle che vengono anche adoperate, non soltanto per l'alimentazione, ma come probabilmente sapete, anche all'interno quando avete delle memorie non volatili integrate in un microcontrollore, per esempio, per ottenere le tensioni di scrittura e di cancellazione delle memorie. In una flash alimentata a un volt, un microcontrollore alimentato a un volt, se ha della logica non volatile interna, ha bisogno di più o meno 9 volt almeno per scrivere. Per arrivare da un volt a più o meno 9 volt internamente, di solito si utilizzano queste strutture. Quando sono utilizzate, come dire, per tirare, non in un regolatore, ma insomma semplicemente per ottenere un livello di tensione più alto o più basso, si chiama tipicamente pompe di carica, non charge pump. Ci sono tanti schemi, come dire, simili che consentono di ottenere il risultato del genere. Voglio concludere con una considerazione soltanto di un paio di minuti, l'avevo anticipato prima e vorrei farla, riguarda la regolazione. Com'è che si fa la regolazione? La regolazione di una cosa del genere è abbastanza complicata perché la tensione di uscita dipende geometricamente dalla tensione di ingresso. Se prendete il circuito che vi ho fatto come esempio all'inizio, la Vout è uguale a un terzo Vin. Quindi a questo punto, se la tensione di ingresso cambia per qualche motivo, come faccio a mantenere costante la tensione di uscita? Ok? Come si fa di solito? Ci sono due meccanismi. Il primo meccanismo è agire sulla frequenza di switching perché se vi mettete in una situazione in cui domina la RSSL, cioè nello Slow Switching Limit, la resistenza di uscita dipende dalla frequenza di switching e quella può essere controllata. Quindi aggiustando la resistenza di uscita uno regola la tensione. D'accordo? Quindi questa è una regolazione che si riesce a ottenere non per un ampio intervallo di variazione, ma per piccole variazioni funziona. D'accordo? Ripeto, è una regolazione che si ottiene aggiustando la resistenza di uscita attraverso la variazione della frequenza. Quindi ci vuole un elemento di controllo che misuri la tensione di uscita e in base alla tensione di uscita aggiusti la frequenza. In particolare, se la tensione di uscita cala, deve ridurre la resistenza di uscita e quindi aumentare la frequenza di switching. Se la tensione di uscita aumenta, bisogna invece aumentare la resistenza di uscita per aumentare la cala di tensione e quindi ridurre la frequenza di switching. Questa è una piccola cosa che funziona per un certo intervallo. Se è necessario fare variazioni più alte, bisogna avere un selettore sull'uscita. E vedete, se prendete questo esempio, tanto per non cambiare l'uscito, se io prendo l'uscita in S10, io ho un rapporto di conversione di 5 mezzi. Se la prendessi invece in S8, qui, diciamo tra S8 e S9, avrei un rapporto di conversione di, direi, 4 mezzi. Quindi, se la prendessi tra S6 e S7, avrei 3 mezzi. Quindi, posso avere un selettore in uscita che mi fa prendere l'uscita in un punto più vicino alla tensione regolata che voglio. Ripeto, questo ha senso perché la tensione di ingresso non regolata potrebbe avere significative variazioni. Quindi, l'aggiustamento fine posso farlo con la frequenza di switching, l'aggiustamento più grande lo posso fare cambiando la porta d'uscita. D'accordo, ci fermiamo qui.